quindi abbiamo degli altri libri creiamo un altro link invoca al suo giro lo creiamo magari qua ok, all'overworld, perfetto dopodiché mettiamo un altro stand qua e creiamo un secondo e non è il materiale naturale qua perfetto creiamo un secondo descriptive book e al suo giro gli daremo noi le cose la quale vogliamo quindi, tac tac, perfetto allora, mettiamo questo qua adesso possiamo scriverci quindi possiamo avere la foresta, un river o un woodlands io vorrei di sicuro della foresta e dei woodlands e del river va bene, va bene così treba i biomi e altri biomi possono essere non li voglio grandi quindi sarà bright di sicuro lo sky sarà black fog o normal fog interessante facciamo normal fog per il momento un mondo di caverne fast time overcast che vuol dire che ci sarà sempre uno storm o qualcosa del genere e skylands non le vogliamo quindi abbiamo scritto questo libro è molto semplice per il momento lo chiameremo il libro forestoso ok dopo perché abbiamo chiamato questo libro il libro forestoso possiamo metterlo qua e io perché ho messo due stand? sono solo io va bene che mi serve questo stand per il prossimo passaggio adesso preghiamo che questo posto sia molto più figo del precedente the fuck ok che diavolo sto male sto estremamente male link in book overworld ciao che cavolo è successo? oddio che ero fatto di viaggio nello spazio e nel tempo allora cos'è che è? bright normal fog single biome cavolo è venuto fuori single biome meno messi tra ecco perché era instabile eternal day e standard terrain diamine mi serviranno delle altre piume proviamo a tornare lì just è il single biome è quello dei river ovviamente do ok questo libro qua è da bruciare probabilmente yap non ci servirà a nulla ma ma si lasciamolo lì giusto perché fa ridere essere ubriachi oddio mi ho lasciato questo che andava chiuditi cibo va bene mi serviranno delle altre piume quindi io non ne ho trovate oltretutto nel mio viaggio cosa c'erano solo mob cattivi quindi di nuovo a casa di marcus a prendere delle piume perché ormai i mob scarseggiano purtroppo e quindi dobbiamo un po' valerci dei nostri amici quello che sto cercando ovviamente sono mucche mi servono delle mucche per forza anche perché finirò i libri a breve quindi avviate po' e va bene io tornerò tra pochissimo ok ho preso 5 piume e quello che è successo con il libro forestoso è che è parecchio instabile nel senso che vedete ha 3 biomi e però questo dice che c'è il single biome quindi in realtà dovrebbe essere un bioma singolo e lo chiameremo il libro ubriaco perfetto chissà se abbiamo imparato qualche altro simbolo sì possiamo controllare adesso huge biomes o single biome perfetto lightning bright black fog normal fog standard terrain cave world fast time eternal day slow weather overcast skylands ok quindi adesso possiamo scrivere un nuovo libro ci creiamo un nuovo descriptive book perfetto poi creiamo un altro linking book ok e stavolta cerchiamo di non uscire fuori con un libro ubriaco tac perfetto creiamo un bioma senza forested island magari ci chiamo woodlands biome ok quindi mettiamo questo descriptive book qua facciamo woodlands biome il biome controller sarà single biome il lighting sarà bright lo sky sarà normal fog questo sarà standard terrain sì il time sarà eternal day il weather sarà slow weather e il world modifier non lo mettiamo e speriamo che non ci esca skylands come al solito e ora ci servono degli altri linking stands quindi tuk no non ne abbiamo abbastanza ce ne servono due tata 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 ok tac uno due perfetto quindi di fianco al libro ubriaco mettiamo questo descriptive book che chiameremo woodlands perché non ho più idee su come chiamare i libri a meno finché non vedo il mondo ok libro delle woodlands pronto non ci siamo mai ancora entrati tutto sta leggendo abbastanza bene il linking book qua sempre pronto e via boom wow dove cavolo sono? non capisco se sto cadendo o dio va bene non so più cosa fare non ah grazie uh ok un mucche lo sapevo haha va bene vorrei scoprire se è un po' strano questo libro quindi in questo momento siccome siamo arenati qua io vorrei riempire un po' qua quindi una pala grazie mille perché si c'è una grossa caduta giù di qua quindi direi che siccome io atterro qua non voglio cadere in giro grazie mille tac e e e e metteremo il linking book qua così perfetto questo libro ce l'abbiamo ancora mh 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 dobbiamo scavare un altro po' di terra e poi andare all'esplorazione perfetto tac 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 grazie mille ok ora torniamo un attimo nell'overworld per vedere se ci sono problemi con questo libro delle woodlands allora è un woodlands biome ok single biome bright normal fog standard terrain eternal day slow weather huge trees quindi ci sono degli alberi giganti ci sono le strongholds c'è un tramonto rosso ed è una skylands evidentemente io volevo che non fosse una skylands ma è una skylands allora vabbè c'è questa mucca che è tipo lì che fa oddio io non so cosa fare sono solo una mucca come faccio a farti scendere mucchina io ti voglio uccidere ma non voglio che finisci giù perfetto allora mucchina vieni giù di qua dai so che lo vuoi so che vuoi scendere scendi però dio questi alberi sono sul serio giganti non li avevo ancora visti oh my god mhm quante ors che ci sono che interessante vabbè ti do una spintina io eh magari di là ok così e ora scappa di là brava ma neanche un po' che tristezza neanche neanche un po' di leather con la quale avrei potuto fare un altro viaggio in questo mondo e dicevano zombie ci sono molti zombie ah zombie ovunque perché crescono così tanti cattivi in questo mondo allora andiamo a cercare se troviamo delle altre mucche qui c'è un creeper perfetto di bene in meglio ma io volerò oltre te ah ah l'unica mucca che c'era in questo posto non mi ha dato quello che mi serviva sono proprio fortunato oggi allora lo di qua comunque vedete che lavorare con la miscraft è un po' pericoloso però è figo perché è arrivato in tutti questi mondi stranissimi ah ah di là potrebbe esserci qualcosa di interessante ok vogliamo vogliamo ah c'era anche un alveare lì perfetto buongiorno adesso vediamo un po' tunca 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 lupi come si conviene ah i mucche voglio mucche è un mondo un po' noioso onestamente a parte tutti i mostri che c'erano di là che non si sa perché ci siano però va bene così poi dovrebbe essere giorno eterno quindi interi mostri dovrebbero stare sotto gli alberi oddio è appena sparito stanno sparendo un sacco di foglie che sia che questi alberi non riescono a mantenerle oh un silverwood interessante maiali salve maiali ragni ok quindi crescono anche le cose che crescono nei biomi normali si abbiamo capito ragno vuoi la mia carne vieni qua a prenderla ok vengo un'altra mucca perché sono così rare mucca prego mucca oh un'altra mucca allora tu farai il mio volere bravissima ho un pezzo di pelle quindi un libro in più ok atterro di qua altre due pezze di pelle oh yeah yeah mucca slaughterhouse signori dove cazzo scappi bravissimo 4 pezze di pelle e 5 pezze di pelle ok con questo possiamo farci un po' di libri sono abbastanza contento l'unico problema adesso non mi ricordo dove è il mio spawn point oh una mucca su un albero allora deduco che il mio spawn point sia di là perché mi ricordo questo alberone immenso però non mi ricordo tutte queste mucche interessante ai 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 allora devo ritrovare la strada di casa quindi la strada di casa potrebbe essere di qua ma anche no perché è pieno di mucche quindi muori no la pelle l'unica cosa che mi serviva ah diamine oh belle va bene te non ti uccido perché tanto cadresti quindi di qua ho come la sensazione ho come la sensazione 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 che non che non stiamo andando alla parte giusta per niente va bene ragazzi io tenterò di ritrovare casa mia possibilmente c'è casa mia il mio linking book che è molto più difficile da trovare perché è un alberino nel cazzo del nulla cioè un libricino ah non mi sparare mentre sono in volo non è carino grazie minimum chance quindi io quando avrò trovato casa mia tornerò subito ah tra pochissimo ok ragazzi mi sono fatto retrasportare in realtà da marcus da qua fino all'overworld e poi sono ritornato qua in modo da poter mettere un cavolo di waypoint perché waypoint sarà casa ok perfetto in questo modo non ci perderemo comunque ho 7 letter il che vuol dire tanti libri per noi yes yes sapete che vuol dire quello ho creato anche altri due book stands mentre mentre tornavo a casa ma facciamone altri 4 ok tac tac perfetto abbiamo 5 libri nice ora con questi 5 libri sì qualcuno mi ha mandato un messaggio a cazzo mentre io sto registrando ok quindi va bene e continuiamo allora stavo dicendo creiamo un altro linking book cioè un descriptive book e vediamo magari di trovare un altro posto figo dove andare questo sarà l'ultimo che vedremo oggi quindi possiamo usare woodlands biome il biome controller potrebbe essere huge biome a sto giro dai mettiamoci anche un altro woodlands river e forested ok il lighting sarà bright lo sky avrà normal fog il terrain generation sarà standard terrain il time sarà eternal day yes il weather sarà slow weather e il world modifier non ci sarà sperando che non esca fuori dannatissimo skylands oltretutto io mi sono dimenticato di prendere questo woodlands mettermelo qua e inserirlo qua dentro perché magari ha delle cose che noi non avevamo tipo il world modifier no è un po' abbiamo qualcosa di nuovo no non è uscito niente di nuovo ah huge trees c'erano e gli strongholds perfetto e anche il red sunset figata ok va bene woodlands vieni qua tac e creiamo un nuovo linking book di nuovo che ci porti a casa qua ok facciamo così e questo descriptive book invece andrà qui e non sappiamo ancora cosa avrà quindi vediamo creati mondo wow un mondo normale tante mucche tanta roba figata finalmente un posto decente quindi linking book overworld perfetto n waypoints ad mondo no no si casa ok perfetto quindi ora abbiamo tutto questo mondicino qua nella quale possiamo andare a cacciare un po' di cibo risorse polli mucche e quant'altro quelle mucche lì non le voglio uccidere subito perché sono talmente vicine al linking book che magari riesco a farne uscire qualcosa di figo questa è proprio un'isola in mezzo al nulla potrebbe essere non essere una cosa così figa un sacco di mucche no no va bene mi piace questo mondo ragazzi quindi torniamo a casa per vedere un po' cosa ha dentro oltre quello che abbiamo inserito noi perché magari ci sono delle cose extra che vogliamo sapere su questo mondo giusto per sapere se può essere in decay quindi tac di qua e andiamo a guardare cosa ha mondo allora woodlands huge biomes woodlands river forested sea bright normal fog standard terrain eternal day slow weather no niente è esattamente come lo volevamo noi perfetto questo lo chiamiamo il mondo che vorrei dai si il mondo che vorrei perfetto ebbene ragazzi direi che come primi passi nella misscraft ci stiamo andando abbastanza bene poi vedremo troviamo un modo scogiteremo un modo per utilizzare questi libri nella maniera migliore io come sempre vi ringrazio di avermi seguito il mio nome è come sempre qui tuano ciao a tutti